Si tratta di due interventi ben distinti, proprio in accordo con Livi Petrolifera, che è concessionaria di parte della Pinetta di Torre Grande. Uno riguarda i trattamenti fitosanitari per la salvaguardia dal punto di vista forestale della Pinetta e consistono nel taglio dei pini morti attaccati da questo coleotero che si chiama Atomicus, che verranno eliminati con la triturazione di queste piante morte. Successivamente, sempre all'interno dei trattamenti fitosanitari, si utilizzerà un sistema di tipo biologico inserendo delle larve, delle trappole, delle trappole che possono catturare questo coleotero.